Una coppia di foiba rossa da donare a tutte le scuole medie e superiori del capoluogo è l'iniziativa portata avanti dal consigliere comunale di Fratelli d'Italia Paola Chiesa in vista del giorno del ricordo fissato per il prossimo 10 febbraio, una ricorrenza con cui si vuole tenere viva la storia di Norma Cossetto, la studentessa di origine istriana barbaramente torturata ed uccisa nella foiba di Villa Surani. È doveroso, ha sottolineato il consigliere comunale Chiesa, far conoscere alle nuove generazioni questa triste pagina della nostra storia. Proprio in occasione del prossimo 10 febbraio, giorno del ricordo, ho deciso di donare foiba rossa, il fumetto che parla della storia di Norma Cossetto, a tutte le scuole medie e superiori della città di Pavia. Un dono spontaneo, un dono che viene davvero col cuore. Il fumetto è stato presentato un anno fa, lo scorso 10 febbraio, in una sala del Consiglio davvero gremita. Norma Cossetto, classe 1920, dopo essere stata sequestrata, ripetutamente torturata, violentata, è stata gettata ancora a vivere una foiba dai partigiani comunisti slavi. La sua colpa? Essere italiana. Norma è simbolo di una tragedia, una tragedia per troppi anni colpevolmente taciuta e nascosta, dalla politica e dalla storia. Ma la storia di Norma Cossetto è una storia di frontiere, è una storia di confine, è una storia che pare italiano, è una storia che tutti i nostri studenti devono conoscere e approfondire. Non solo la consigna del fumetto, nelle scuole del capoluogo, grazie ad un ordine del giorno della stessa Paola Chiesa, il Comune di Pavia ha deciso di intitolare una via alla memoria di Norma Cossetto. Iniziative che già in passato avevano fatto storcere il naso a qualche consigliere comunale di opposizione, soprattutto lo scorso anno la mostra dedicata proprio a Norma Cossetto all'ingresso di Palazzo Mezzabarba, polemiche attese anche in vista del prossimo 10 febbraio. Me li aspetto, me li aspetto perché ci sono ancora purtroppo tanti negazionisti, ma la verità non può essere in foibata. Il prossimo 10 febbraio presenterò un nuovo volume intitolato proprio Verità in foibata, a cura di Biloslavo, una firma di punta del giornale, Matteo Carnieletto con la prefazione di Toni Capuozzo. Sì, mi aspetto le polemiche, però ripeto, la verità non può essere in foibata, è stata taciuta per troppi, per troppi anni. Ha contattato già le scuole, c'è qualche preside che sia opposto, qualche insegnante? Per il momento ho avuto solo ringraziamenti dal dirigente, dai dirigenti scolastici. Io insieme al libro ho legato una lettera in cui ho spiegato il perché di questa donazione. Per il momento solo ringraziamenti. Non accennano a placarsi le polemiche sui morti delle foibe e la tragedia degli esuri di Giuliano Dalmati. Dopo la presa di posizione negazionista dell'Associazione Partigiani di Rovigo e i dissensi sulla realizzazione e la distribuzione del film Red Land, ora è la volta di questo libro a fumetti, dedicato alla tragedia di Norma Cossetto, la giovane italiana violentata in foibata dai partigiani titini alla fine della Seconda Guerra Mondiale e insignita molti anni dopo di medaglia d'oro alla memoria dal Presidente della Repubblica Ciampi. Finalmente una legge dello Stato nel 2004 istituisce il giorno del ricordo e dice anche che le scuole devono approfondire il tema. E allora la Regione, con il suggerimento, la richiesta di Federesuli, ha voluto dare questo fumetto foiba rossa nelle scuole medie del Veneto. E chi dice che questo invece fomenta l'odio? Chi parla di odio è perché ha cattiva coscienza. Una risposta al PD provinciale, che sempre oggi in un comunicato parla di deriva estremista, ma soprattutto all'Associazione Partigiani e a Giuliano Vernier, che parla di vicenda nata dal fascismo. L'AMPI è completamente fuori dal tempo, perché dovrebbe semplicemente chiedere scusa per essere l'erede morale di quella parte di storia. Quando si chiede di condannare leggi razziali, la destra l'ha sempre fatto. Perché l'AMPI non ha ancora avuto il coraggio di chiedere scusa? Assessore che non si limita all'Associazione Partigiani, ma chiama in causa anche l'ex senatrice montemellunese Laura Puppato, che più di documento storico parla per questo libro di strumento di propaganda. Puppato è veramente fuori dal mondo, perché lei, femminista che dovrebbe difendere, ha sempre difeso dicendo a parole la storia delle donne, beh qui si tratta della prima giovane vittima del femminicidio, in un modo barbaro. Puppato dovrebbe chiedere scusa anche lei. Grazie. 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 Grazie.